ciao bambini oggi leggiamo il leone il cinghiale e gli avvoltui da esopo durante l'estate quando la fa il caldo provocano la sete un leone e un cinghiale si trovarono nello stesso momento vicino a una piccola sorgente cominciarono subito a litigare perché tutti e due volevano bere per primi dalle parole passarono ai fatti iniziarono a lottare furiosamente e ad azzarnarsi erano già ferite e sanguinanti quando alzando lo sguardo al cielo per riprendere fiato videro uno stormo di avvoltui gli uccelli che si nutrono di corpi morti questi aspettavano in attesa di divorare il primo che fosse caduto morto così il leone il cinghiale interruppero la lotta e dissero meglio essere amici tra di noi che essere cibo per gli altri